Eh ragazzi, come ben sapete io ho fatto una cazzata, adesso sto pensando come suicidare, perché non posso più, non potrò mai vivere con questo, con questa cosa che mi tormenterà, con tutte queste decisioni che sono state fatte, tutte le cose che sono successe. A me dispiace più che altro per Johan, per Sara, per tutte le persone che mi conoscono. Adesso non so se Johan ci sarà ancora, ma il mio obiettivo era quello di far vedere alla gente che per amore non bisogna mai intromettersi nelle faccende altrui. Anzi, è meglio pensare a se stessi, non intromettersi nelle relazioni altrui e farsi la propria vita senza tenere nascosto tutto al miglior amico, senza... Cioè, quello che ha fatto Johan è tutto sbagliato, dalla A alla Z, perché, allora, adesso è difficile spiegarvi perché ho talmente tante cose da dirvi, che non so neanche più da come cominciare. Io adesso c'ho in mente questo pensiero qua, di aver fatto questa cazzata... Lo ammetto di aver fatto questa cazzata... Grazie. Grazie. Grazie.